Ritrovate alla stazione di Fano i due liceali scomparsi da Pesaro un mercoledì, li ha riconosciuti una passante. Furti in serie durante l'estate, arrestata una coppia che colpiva negli esercizi commerciali e rubava le bici elettriche in centro a Fano e in zona mare, lei incinta e con una bimba a seguito per non destare sospetti. Disabili ai concerti, trovare i biglietti è sempre un'impresa da Gallo di Petriano, l'appello di Giorgia Righi, lo Stato ci aiuti. Rotti gli specchietti dei mezzi in sosta a Rosciano di Fano, danneggiata anche l'auto nuova di Fabio, il barista della pizzeria Angelo 2.0. Solimai, a Gimarra inaugurati due appartamenti in cui vivranno insieme cinque persone adulte con gravi disabilità, con loro ci sarà H24, un educatore. Pista di ghiaccio, proiezioni e il villaggio del gusto nella zona del Pincio, presentate le novità del prossimo Natale a Fano, il 27 novembre l'accensione della Vete in piazza 20 Settembre. Buonasera e benvenuti sul canale 17 per una nuova edizione di Occhio alla Notizia, lo avete sentito dal nostro sommario, sono stati ritrovati Nicola Urbinati ed Emanuele Pucci, entrambi di 16 anni, che si erano allontanati da Pesaro nella giornata di mercoledì. La bella notizia è stata annunciata dai volontari della protezione civile con un post pubblicato sulla pagina Facebook. Già ieri l'associazione aveva diffuso le foto, le caratteristiche fisiche e l'abbigliamento di Nicola, con la speranza che qualcuno potesse riconoscerli. E così è stato, infatti questa mattina, intorno alle 7, una donna li ha viste alla stazione degli autobus e ha avvisato le forze dell'ordine. Sul posto è arrivata una volante del commissariato di Fano, che li ha trovati accovacciati per terra. I due avrebbero dichiarato di essersi recati verso Ancona e di aver dormito fuori. I giovani, amici e compagni di scuola erano usciti di casa l'altro ieri per andare al liceo scientifico Marconi, ma in classe non ci erano mai arrivati. Dopo la denuncia sporta dai genitori alla caserma dei carabinieri erano scattati immediatamente le ricerche fino a fuori provincia, attraverso la rete delle forze dell'ordine. Anche la polizia locale ha contribuito visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Iniziamo la giornata più sereni, hanno scritto questa mattina i volontari sui social network, dove ieri era rimbalzata la notizia della loro scomparsa. Un sospiro di sollievo per le loro famiglie. E sempre gli agenti del commissariato di Fano hanno arrestato un uomo e una donna ritenuti responsabili di numerosi furti messi a segno in città. La coppia agiva anche in presenza della loro figlia di appena sei anni. Avevano destato un grande allarme sociale a Fano per i furti commessi in tutto il periodo estivo, ma la polizia è riuscita a fermarli. Sono stati arrestati a Rimini, un uomo e una donna di 36 e 34 anni provenienti dalla Romagna, ma con base operativa nella nostra città. Le indagini svolte dagli agenti del commissariato, diretti da Stefano Seretti, sono partite dai numerosi furti di biciclette all'interno di esercizi commerciali. L'attenzione dei poliziotti, grazie anche ai pedinamenti e alle immagini delle telecamere, si è concentrata su una donna con precedenti penali e con problemi di tossicodipendenza, ospite in una comunità fanese insieme alla figlia di sei anni a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile. La donna, che era incinta, aveva iniziato prima a mettere a segno dei colpi all'interno della struttura che l'accoglieva, per poi allargare il campo d'azione nelle farmacie, nei negozi e in un'abitazione privata. Le zone interessate sono quelle del centro storico e del lungomare, ad essere presi di mira invece il denaro, oggetti vari come occhiali e in particolare le biciclette elettriche, anche di un valore superiore ai 1000 euro. I poliziotti hanno accertato anche il ruolo del compagno, che con frequenza quasi quotidiana la raggiungeva da Rimini in treno e partecipava attivamente alla commissione dei furti, nonché al trasporto della merce trafugata, sempre a bordo di treni, verso la vicina Romagna, dove veniva rivenduta. Il modus operandi della coppia si caratterizzava dalla preliminare attività della 34enne, che nonostante si trovasse nella fase terminale della gravidanza, effettuava continui sopralluoghi spostandosi in compagnia della figlia lungo le vie cittadine in sella a una bici rubata. Individuati gli obiettivi, attendeva l'arrivo del compagno e spesso portando con loro la minore anche per destare meno sospetti, si introducevano nei negozi o colpivano, utilizzando tronchesi per rompere le catene utilizzate dai titolari delle bici elettriche. La coppia è ritenuta responsabile di almeno 20 episodi, alcuni dei quali commessi dopo il parto avvenuto all'ospedale Santa Croce. Diversi veicoli a due ruote però sono stati recuperati a Fano dalla polizia che li ha restituiti ai legittimi proprietari. I malviventi invece sono stati arrestati tre giorni fa, in collaborazione con l'acquistura di Rimini e portati in carcere. Il 118 è intervenuto questa mattina poco prima delle 10 in piazza 20 Settembre a Fano dove un uomo di 72 anni ha accusato un malore mentre era in compagnia di un amico. L'anziano si è accasciato a terra poco distante dalla fontana e in pochi minuti sono arrivati i sanitari. All'uomo che è rimasto sempre cosciente sono state prestate le prime cure a bordo dell'ambulanza. Sul posto anche una pattuglia dei vigili urbani che stava effettuando un servizio di vigilanza in centro storico. Brutta sorpresa ieri sera per il barista della pizzeria Angelo 2.0. Qualcuno ha rotto gli specchietti della sua auto nuova mentre lavorava nel ristorante inclusivo che coinvolge le persone con diversi tipi di disagio. Fabio, cosa è successo ieri sera intorno alle 19? Ho trovato i vetri della mia auto rotti con qualcosa di appuntito ed è una 500 Abarth Yamaha Energy. Era parcheggiata davanti ai bidoni dell'immodizia della fermata dell'autobus in via Cespi 2 a Rosciano e quando sono andato a casa dal lavoro li ho trovati tutti e due rotti. Qualcuno mi ha rotto i vetri con qualcosa di appuntito mentre stavo lavorando qui nel parcheggio di Rosciano. Solo gli specchietti laterali o anche i finestrini della macchina? No, gli specchietti, il vetro dello specchietto, tutti e due il vetro dello specchietto, quello di destra e quello di sinistra. È una cosa che è successa solo a lei oppure anche ad altre auto? Che so io è successo anche a altre auto mi hanno detto. Mi ha detto la concessionaria che può essere stato un martello molto piccolo oppure una candela di un motorino appuntito, qualcosa di appuntito. Non ho fatto denuncia però bisognerebbe trovare di chi fa certe cose. Anche perché qui nei dintorni non ci sono telecamere di videosorveglianza? Non ci sono telecamere e toccherebbe mettere telecamere in tutto il parcheggio. Io chiedo che ci siano più controlli nel parcheggio e in tutta la zona di Rosciano. Chiedo che qualcuno venga a controllare cosa sta avvenendo, cosa sta succedendo. Dal messaggio di Fabio a quello di Giorgia Righi, una studentessa di 23 anni, affetta da disabilità motorie. Giorgia si muove in carrozzina da quando aveva 12 anni, ma vorrebbe partecipare ai concerti dei suoi cantanti preferiti. Purtroppo però trovare i biglietti è davvero un'impresa, ci dice. Da qui l'appello forte e chiaro alle istituzioni. Allora sentite la nostra intervista che è stata realizzata da Angelica Panzieri. Vorrebbe partecipare attivamente alla vita sociale più di quanto lo stia facendo ora. Andare a teatro, ai concerti, agli incontri e spettacoli di vario genere. Ma trovare i biglietti per Giorgia Righi, 23 anni, studentessa universitaria del Gallo di Petriano con disabilità, è un'impresa ardua, spesso difficile se non impossibile. Giorgia a 9 anni ha scoperto di avere una patologia neurodegenerativa e da quando ne ha 12 si muove in carrozzina. I momenti bui li ha sempre affrontati con la grinta che le appartiene, la stessa che l'ha portata tre anni fa a scrivere il libro Vivere Volando. Non so dove stia andando, nemmeno in che luogo mi trovi ora, scrive Giorgia, ma mi sento leggera e libera, come non mi sono mai sentita prima. Volo. La sua seconda casa è la piscina, spesso in acqua a nuotare oppure sul piano vasca come giudice di gara. Oggi l'appello, forte e chiaro, Giorgia lo fa alle istituzioni. Io sono una studentessa di scienze amatorie, un'istruttrice e giudice di nuoto e sono appassionata di arte e sport, quindi mi piace tantissimo partecipare dal vivo agli eventi. Non è sempre facile, è tutt'altro, perché ha una disabilità, perché i biglietti degli eventi non sono mai facilmente trovabili. È sempre un'impresa capire chi se ne occupa, se l'ufficio adatto piuttosto che l'organizzatore o il palazzetto e non viene mai indicato un contatto da chiamare. Quindi noi disabili siamo sempre alla ricerca, spendendo tanto tempo ed energie per poi magari arrivare sotto la data del concerto e non avere più biglietti disponibili perché sono terminati. Quindi immagino che ti sia capitato tante volte di dover rinunciare. Sì, tantissime volte perché è un problema che dura da sempre in tutta Italia e purtroppo ancora oggi per i concerti di Armi è la stessa situazione. Vorrei chiedere alle istituzioni, alle persone che si occupano di agenzie di rivendita biglietti che la vendita dei disabili sia standardizzata come tutti in cui anche su un semplice sito si possa acquistare biglietti per un disabile come per i norma dotati. I prossimi concerti a cui Giorgia vorrebbe partecipare sono quelli di Alessandra Amoroso ed Ultimo. Un messaggio attraverso i nostri microfoni lo manda anche a loro. Quali concerti hai dovuto rinunciare fino ad oggi? Purtroppo ai concerti dell'Amoroso ed Ultimo a cui non ho riuscito a trovare i biglietti e vorrei che anche questi cantanti famosi dessero una voce alle persone che come me hanno difficoltà e che magari anche loro per primi fossero messi a conoscenza delle difficoltà. Nell'ultima giornata nelle Marche si è verificato un altro decesso legato al Covid si tratta di una donna di 82 anni residente a Fermo rimane alto invece il numero dei nuovi positivi che sono 210 in 24 ore di cui 65 nella provincia di Ancona che resta la più colpita negli ospedali si registra un ricovero in più in terapia semi-intensiva. Dalle scogliere alle piste ciclabili fino alla frana di Carignano il Comune di Fano ha ottenuto 3 milioni di euro dal Ministero dell'Interno per realizzare diversi interventi attesi da tempo dalla città. Sono 3 milioni e 860 mila euro i finanziamenti ottenuti per il Comune di Fano dal Ministero dell'Interno. Una cifra importante che permetterà di risolvere alcuni interventi nella nostra città ha detto il primo cittadino Massimo Seri primo cittadino che questa mattina ha elencato gli interventi 500 mila euro per il rifiorimento delle scogliere di fronte alla ex pista dei go-kart quasi 450 mila euro per il sistema franoso di Carignano dove faremo un bel intervento altri 500 mila euro per piste ciclabili questo probabilmente le realizzeremo per una pista che consenterà di andare in bicicletta alla nuova piscina ci sono 500 mila euro per la piazza Marcolini abbiamo un altro bel intervento 900 mila euro per via Le Battisti e la parte di via Garibaldi Vecchia anche questo diventerà un ingresso un collegamento mare-strada e mare-centro importante un ulteriore intervento nella parte sud Rio Crinaccio dove in passato facciamo degli interventi importanti ma li continuiamo andando verso la strada con ulteriori interventi anche 850 mila euro per la raccolta delle acque della zona sassonia come vedete insomma ci sono risposte per tutta la città ma questa è solo una prima tranche perché attendiamo altre forti risorse anche nei prossimi mesi queste sono tutte opere che verranno realizzate e canterate entro il 2023 e sempre il sindaco di Fano questa mattina ha tagliato il nastro nei due nuovi appartamenti a Gimarra che diventeranno la casa di 5 persone adulte con gravi disabilità con loro ci sarà sempre un educatore giorno e notte si chiamano Francesco, Luigino, Silvia Ida, Maria Cristina e Giordano e sono i protagonisti del progetto Solimai da domani questi adulti residenti a Fano affetti da gravi disabilità potranno vivere insieme condividendo gli spazi inaugurati a Gimarra di Fano verranno divisi in due appartamenti di 120 metri quadrati ciascuno trascorrendo il resto della loro vita in modo indipendente e in piena autonomia sono stati impiegati circa due anni per arrivare all'inaugurazione di oggi con il nastro tricolore tagliato dal sindaco Massimo Seri l'investimento complessivo è di quasi 400.000 euro tra finanziamenti regionali e statali concessi dal 2016 al 2018 all'ambito territoriale 6 oltre a più di 47.000 euro a carico di quattro enti del terzo settore che si sono uniti per un cofinanziamento dopo aver partecipato ad un avviso di manifestazione di interesse il contributo è stato destinato alla ristrutturazione, alla gestione e alla locazione il progetto Solimai nasce infatti dalla legge dopo di noi che promuove e favorisce il benessere e l'inclusione sociale di queste persone con difficoltà i cinque protagonisti con genitori anziani rimasti senza familiari nello scorso gennaio avevano iniziato il percorso di autonomia con il Durante Noi frequentando ogni settimana l'ex residenza estiva delle Suare Zavarise oggi open house in zona rosciano dove hanno potuto iniziare a vivere insieme dalla spesa alla cucina, dalle pulizie alla cura dell'orto in questo progetto hanno partecipato ad un bando c'è stata una valutazione anche del distretto sanitario ci sono progetti individuali ognuno ha un progetto specifico qui vivranno fino alla fine di tutta la loro vita quindi questa diventerà davvero la loro casa e non saranno soli chiaramente saranno sempre supportati, accompagnati da un educatore, da un operatore che vivrà qua con loro 24 ore su 24 giusto? che vivrà qui con loro sì, direttamente perché sono distribuiti anche in modo tale che siano sempre accompagnati non possono essere lasciati soli però davvero è un progetto anche innovativo perché vuol dare io credo che davvero che quella legge sia una vera grande conquista di civiltà voglia dare loro quando i genitori non ci saranno più i loro familiari non ci saranno più un ambiente il più familiare possibile il più accessibile possibile il più confortevole perché davvero la comunità nei confronti di questi soggetti deve comunque fare in modo di non lasciarli mai soli e di trovare sempre il modo che possono contare su qualcuno qui non si sentiranno ospiti ma padroni di casa ha poi assicurato la coordinatrice dell'ambito 6 Roberta Galdenzi addirittura anche gli arredi ai colori sono stati scelti da loro se questo modello innovativo e lungimirante adottato a Fano funzionerà verrà replicato anche in altri comuni dell'ambito a raccontarci dell'importanza del progetto è la sorella di Francesco uno dei cinque scelti per abitare qui lui da un di 54 anni ha un grave quadro patologico compromesso anche da una seconda patologia che cosa significa per suo fratello poter abitare in questa casa senza essere lasciato solo? io ho sempre creduto in il progetto dopo di noi tantissimo da quando l'ho iscritto a Francesco nel momento in cui era meno compromesso il suo quadro patologico perché credo in questo progetto lui è rimasto orfano di entrambi i genitori dal 2016 ha la fortuna di avere due sorelle che l'assistono con grandissima fatica devo essere onesta soprattutto negli ultimi mesi perché c'è stato un peggioramento della sua patologia quindi ha avuto uno scompenso che ha compromesso anche la sua partecipazione probabilmente al progetto in ogni caso credevo in questo progetto quindi credo che debba andare avanti a prescindere da noi a prescindere da lui perché lui ha avuto la fortuna di avere due persone che l'hanno accudito insieme a una caregiver bravissima però non tutti sono in questa situazione quindi non entrerà a fare parte del progetto dipenderà in questo momento la sua patologia ha subito un peggioramento importante purtroppo per noi cinque anni fa la situazione era completamente diversa e io speravo insieme a mia sorella che potesse aderire a questo progetto in ogni caso ci sono tanti altri ragazzi della sua età che ne hanno veramente tanto bisogno i vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Urbino in località San Giovanni in ghiaiolo per una persona che ha smarrito l'orientamento mentre passeggiava con il cane i pompieri sono intervenuti con mezzi fuori strade con l'elicottero del reparto volo di Arezzo una volta individuati erano tutte e due in buone condizioni di salute sono stati trasportati nel vicino campo sportivo cambiamo argomento il consiglio regionale ha approvato la legge sull'enoturismo l'obiettivo come spiega Mirko Carloni è quello di creare dei percorsi esperienziali chiamati cammini del vino l'enoturismo delle marche verrà disciplinato con una normativa regionale l'assemblea legislativa ha approvato all'unanimità la legge che fornisce agli operatori viti vinicoli delle opportunità innovative per implementare un'attività quella enoturistica dalle tante sfaccettature e compositive ricadute sul reddito aziendale dopo mesi di discussione e una veloce dibattito anche in aula ma molto corretto anche con la minoranza che ha portato delle modifiche abbiamo approvato una legge che secondo me è storica le marche hanno tante cantine centinaia di cantine tante indicazioni geografiche tante denominazioni prodotti di eccellenza sul piano vitivinicolo ma anche sul piano enogastronomico in generale ma nessuno le ha messe mai insieme facendolo diventare una forma di attrazione turista perché il tipo di turismo che sta andando di moda adesso è un turismo esperienziale che cerca un'emozione che cerca di provare come si fa la vendemmia come si raccoglie il tartufo come si fa la transumanza dei cavalli cioè ci sono delle cose che noi diamo per scontato del nostro sistema agricolo perché l'abbiamo sempre vista solo come un fatto produttivo e invece sono anche una grande opportunità dal punto di vista turistico però bisogna mettere dentro un contenitore e creare i cammini del vino che sarà l'operazione che faremo a valle dell'approvazione della legge per avere dall'Europa il riconoscimento dei cammini come percorsi culturali un progetto già sviluppato in altri stati ad esempio in Francia detto Carloni alla quale la regione si è ispirata quel tipo di movimento dà opportunità lavoro crea occupa gli alberghi ristoranti le campagne sono invasi di turisti ma anche di francesi semplicemente che vanno con la scusa del vino a vedere dei luoghi in campagna dove però c'è la statua dell'artista famoso il concerto il ristorante con lo chef stellato o comunque con le produzioni locali tradizioni locali e noi avendo un patrimonio enorme di prodotti e di ricette di capacità di qualità enogastronomica dobbiamo metterlo dentro dei percorsi questi percorsi verranno chiamati cammini del vino e si sovrapporranno a delle aree di produzione geografica in modo da creare dei percorsi omogenei in cui i turisti potranno conoscere il nostro territorio quindi sarà una grande esperienza per le marche e credo che l'enoturismo darà tante soddisfazioni ai produttori di vino ma in generale alla nostra regione questa mattina il servizio viabilità della provincia di Pesaro e Urubino ha riaperto al traffico la strada provinciale 51 delle Cesane che era stata chiusa ieri pomeriggio al chilometro 16 a causa di un tir rimasto incastrato in una curva gomito vicino all'azienda forestale Campo d'Asino a Fossombrone grazie a una ditta specializzata il mezzo pesante è stato spostato sul lato della carreggiata per consentire così il ripristino della circolazione stradale in giornata è stato eseguito un ulteriore intervento per permettere al tir di riprendere la sua destinazione ed ora apriamo la pagina degli eventi a Fano sono state presentate tutte le iniziative e le novità del prossimo Natale allora ce ne parla Filippo Pucci c'è chi li aspetta da tempo per la gioia di grandi e piccoli stanno per tornare le festività natalizie eh sì perché tra qualche settimana si entrerà nel pieno del clima natalizio e per questo il comune di Fano oggi ha presentato il programma del Natale più edizione 2021 appuntamento che rientra negli eventi legati al progetto del Natale che non ti aspetti dal 27 novembre fino al 6 gennaio tanti appuntamenti e tante attività a partire dal coinvolgimento vero e proprio della zona del Pincio ma anche dei vari luoghi del centro storico come piazza 20 settembre e le vie principali della città novità di questa edizione sarà il villaggio del gusto un vero e proprio contenitore di prodotti tipici locali ma anche di grande pasticceria grazie alla collaborazione dei maestri pasticceri fanesi come Guerrino Cavazzoni e Arturo un grande villaggio di Natale dove appunto i grandi pasticceri avranno all'interno delle loro casette delle lecornie quindi la possibilità di acquistarle proprio direttamente nella zona Pincio ma ogni domenica ogni pasticcere in un luogo preposto in un'area 20 presenterà la propria proposta pasticcera del Natale 2021 e subito dopo questa presentazione insomma si realizzerà un laboratorio proprio dedicato ai bambini non mancherà per i più piccoli la casa di Babbo Natale e i mercatini natalizi dislocati sia nella piazza ma anche in via Arco d'Augusto fino a Corso Matteotti riconfermate le attrazioni che hanno sempre funzionato come la pista di ghiaccio di 400 metri quadri che verrà installata sempre in piazza Veduti novità anche per l'illuminazione in tutto il centro storico Fano Christmas Light un'illuminazione veramente diffusa in tutta la città con l'albero del Signore Seri che sarà ancora in zona Porta Giulia con tutta l'illuminazione in tutte le vie con il grande albero al centro di piazza 20 Settembre e con una grande proiezione sulle pareti del Teatro della Fortuna realizzata in collaborazione con la Fondazione Carifano e con la Fondazione Teatro della Fortuna che racconterà la nostra storia Dopo la chiusura dello scorso anno riapre a grande richiesta il presepe di San Marco conosciuto in tutta Italia e frequentato da tanti turisti per la grande attenzione al dettaglio come confermato è il presepe di dimensioni reali realizzato dai maestri carristi della Carnival Factory nella zona del Pincio ad arricchire quello che è il villaggio di Natale che ovviamente quest'anno aumenterà i personaggi quindi non soltanto Giuseppe Maria Gesù Bambino ma appariranno dei pastori appariranno degli animali quindi delle pecore il cane pastore quindi una zona che si presta particolarmente per questa attività che sarà ogni anno arricchita ultima ma non per importanza piazza 20 settembre dove il 27 novembre verrà illuminato l'albero di 13 metri seguito poi dai tanti appuntamenti organizzati dalle varie associazioni culturali del territorio quindi si lavorerà col Natale si lavorerà con il jazz si lavorerà con la nostra storia quindi col periodo malatestiano si lavorerà con una scuola tra le note quindi veramente un programma ricco la volontà di arricchire la città in ogni angolo appunto come ho detto perché il vero progetto la vera idea è quella di renderci completamente attrattivi di fare in modo che le persone in arrivo non possono goderci a pieno e girare la città in lungo e in largo Sabato 13 novembre dalle ore 15 alle 18 in piazzale della Libertà Pesaro si terrà una manifestazione autorizzata contro il Green Pass per il reprissino della Costituzione si legge nella Locandina per la libertà vaccinale e per il futuro dei nostri figli ultima domenica invece per Cartoceto Dop il Festival l'evento torna con il mercato dei produttori degustazioni convegni arte di strada percorsi verdi ma anche le visite ai frantoi lo spettacolo di videomapping su padre Stefano Pigini e musica per le stradine del centro storico ci sarà l'energia della fan-casine mentre al teatro del trionfo arriverà il noto cantautore bungaro con il vibrafonista fanese Marco Pacassoni l'intero programma lo troverete nel nostro sito occhioallanotizia.it Vi annuncio poi che lunedì sera alle ore 21 in diretta saranno i nostri studi il sindaco di terre roveresche Antonio Sebastianelli per una nuova puntata di Primo Cittadino il numero di telefono è sempre lo stesso ed è dedicato alle vostre segnalazioni anche importanti per la redazione 338-4968-250 e dunque per il telegiornale è tutto buon fine settimana l'appuntamento si rinnova domani mattina alle 7 con la rassegna stampa arrivederci a presto